Sì, ma valla torna! Un'altra palla è... Ma ti scherzi, ma ne vieni minima! Ma ci scherzi, ma ci tratta 50 al best! Non so se non è vero, non so se non è vero, non so se non è vero Ragazzi, allora, sono qui con Deborah, saluta Deborah! Allora, voglio fare un annuncio importante, è importante l'accessibilità per tutti gli eventi perché è giusto che tutti possano venire gli eventi, comprese le ragazze come lei Quindi, mi raccomando, tutti quelli che venire sono eventi Grazie! Carinissime, raga!